Ci troviamo a Sant'Alessio Siculo nel Messinese Ionico. Alle mie spalle potete ammirare il bellissimo promontorio sul Mar Ionio che anche oggi è una tavola. Difatti abbiamo avuto una settimana caratterizzata da tempo stabile, mite e soleggiato con temperature massime che hanno raggiunto valori da piena estate anche di 28-29 gradi. Questo clima stabile e soleggiato però è destinato ad abbandonarci presto per l'arrivo di alcune perturbazioni dal bacino occidentale del Mediterraneo che interesseranno prevalentemente le regioni del sud e la Sicilia. Già nelle prossime ore una prima perturbazione andrà a interessare l'isola e le regioni del meridione d'Italia dispensando delle precipitazioni a carattere sparso anche sotto forma di rovesci e temporali che localmente potrebbero essere anche di moderata e forte intensità sulla Sicilia meridionale. Poi nei prossimi giorni dopo un lieve miglioramento altre perturbazioni coinvolgeranno le regioni del centro sud, tempo più stabile e asciutto invece al centro nord.